Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land e Company of Heroes Base Allora, io qua voglio andare a prendere subito quel carburante di qua e tu ci accompagnerai L'obiettivo è eliminare l'asso dei Panzer, l'asso tedesco Tra l'altro, in una missione di Tales of Valor comanderemo proprio quel carburante Dai dai Suggero Latio anche Dai, veloci, veloci Perfetto 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 Allora, facciamoci il cacciacarle Ma non ho purtroppo 55 Perfetto Dai Dai Perfetto 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 Ma hola... no, ovviamente. Eh, però dovrei avere... Puoi incendiare... Ah, Cots... What a good one! Guarda che abbiamo anche il cacciacarri Prendetela intanto qua ci curiamo Poi... Allora... Cos'è questo? Ah, un Browning, dai dai, figlia figlia Per uccidere alcune persone! Vai, vai, vai! Se ne abbiamo due di questi Ah... Eh no, ci serve il... Distruggetelo Deve vincere il gale Cazzo la patra Esquerda ada qui ci sanno Cazzo la patra Cazzo la patra Cazzo la patra È chiar di tipo! Ducere un pezzo! Begine grazie Seguimbi Perchè Qui cacciano Perchè Perchè Facciano i paracarottisti, così posso andare via. Ah, intanto però voglio il cannone anti-carro. Ok, qui ci siamo noi, ce l'abbiamo. Poi... Andiamo a vedere cosa c'è qua. Dai dai, andatelo a curare e voi tu vieni qua. Dai dai. Eh vabbè, per te di una mano. Dai, andatelo. Dai, destruggeteli. Che adesso chiamo i paracarottisti. Speriamo. Non ci riesco. E qua non c'è l'argo. Non c'è l'argo. Non c'è l'argo. Non c'è l'argo. Dai dai. Ecco lì. Abbiamo i paracarottisti nel campo. Estanno chiesto di un'argo. Perchè. Paracarottisti. Perchè. Atacato, atacato. 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 Abbiamo con quelle carabine. Metetevi al da diezo. guardatella 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 c'è la bene tesi guardatella olè quello dovrebbe esso andato bene 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 buona buona attendete tutto Iniziamo ad avanzare E' meglio che ne faccia un altro Dai dai dai, distruggetelo Dai dai, distruggetelo Dai 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 Dai, distruggetelo Dai dai, distruggetelo 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 Questo è il sudietta Ma sì Direi in seguito D72 ha ancora di caraccia? c'è un passo Ah si senta a platto dai dai asci 64 dai dai c'è un pozzo 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 torno indietro ingegneri anzi non faccio una cosa, prendetevi l'acqua andate a prendere il carburante, quello ci serve forse è questa l'ultima missione vai con quelle granate e la 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ehi, gli avio trasportati sono fortissimi E poi possono poter ricevere le rinforzioni Grazie a tutti Ehi, l'ho capito qua Ehi, l'ho capito 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 Forza Ehi, l'ho capito 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 Buongiorno! Bravissimi! Perfetto, intanto adesso quello tra poco torna, e io pian piano conquisto. Allora, torna un po' qua tu. Ti ripariamo. Hai 375. Fortuna che non sono troppo aggressivo. Fuori! Essere il servio. Un po'! Un po'! Un po'! Sì Eccolo che arriva... Eccolo che arriva... Ah, cazzo, no, non ho menzio. Cosa siamo qua? 53, dai. Quella ammazza. Dai, dai, 47. Dai, dai, tiratela. Infinezza è in rinforzamento. Inforzamento procede. Perfetto! Sistenti in attire! Pronto! Airborne! Ready for duty! Airborne! Airborne! Sistenti in attire, il caffè. Ma è saldo che sono 34! 350.. ...è tenuto di caffè qua. Che cazzo sta il Pershing, me non avrò un distrutto? Ah no, per te. Ale! Distrutto? Eliminato. All right, second squad, take the left flank. Keep your eyes open. First squad, on me. Hey guys, wasn't this Schultz the one who killed the captain? Yeah, didn't he almost kill you too, lieutenant? Shut the fuck up, Gunningham. Shut up, sir. All right, there's nothing to see here, moving out. Ah, era questa l'ultima. That guy was one tough crowd. E questo dovrebbe essere l'ultima. Perché adesso un pochettino me la ricordo. Ma adesso dovrebbe essere finita. Quindi è questo il gran finale. Credo. Che a questo punto. The 300.000 strong German 7th Army is in full retreat. Our objective is to cut them off and prevent them from crossing the Rhine and setting up a defensive line. British, Canadian and Polish forces are moving in from the north. US divisions led by Able Company will seal the pocket from the south. Forse non è questa l'ultima. È questa l'ultima. Non me la ricordo più niente. Non mi la ricordo più niente. E la guerra per l'Europa sarà una. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per ridurre loro, dobbiamo linkare il nostro territorio con i canadiensi e i polisi al nostro nord. Aspettiamo, scegliamo queste pietre. Questo potrebbe bottleneggiare i germani e accelerare il loro ritratto. Ok, Abel Company, questo è tutto. Eh, però, paracadutisti, andiamo. Non mi piace la fanteria. Ok, quindi, da Abel Company è tutto e da GTR Land ci vediamo alla prossima, che sarà il gran finale. Grazie a tutti.